Il corpo senza vita di un ragazzo di 17 anni è stato trovato durante la notte dai carabinieri in un'abitazione in via Solimena, a nocera inferiore, nei pressi dell'ospedale Umberto I. Mistero sulle cause del decesso, ma sono in corso i rilievi. Il cadavere è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale Umberto I, dove già nelle prossime ore potrebbe essere effettuata l'autopsia. Sul posto i carabinieri che hanno effettuato i primi rilievi e quelli della sezione scientifica che hanno dato il via alle indagini. Il 17enne è stato identificato, si tratta di un ragazzo di cava dei Tirreni. Al momento non è chiaro quali siano state le cause della sua morte.